Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1944 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 11 ottobre 1944. Ieri l'altro e ieri, silenzio e cecità. Ma non sconforto perché, se la bontà di Gesù ha risparmiato il mio corpo stremato e ultrasofferente dalla fatica di scrivere, non mi ha che confortato lo Spirito con la sua invisibile presenza tutta per me, bianca e sorridente. E tutto il sereno di quegli occhi santi si è riversato nel mio cuore. O mio tesoro sconosciuto al mondo, anche al mondo che più m'è presso, a quelli che con me convivono e che mi vedono semplicemente occupata a leggere le mie orazioni o a far dei merletti, a mangiare un frutto o a parlare di cose comuni, e non sanno che in realtà la parte migliore di me non fa che adorare il Dio che vede e parlare con Lui e udirlo parlare. Delle volte mi trovo a sorridere pensando che chi è con me non sa con chi sono io. E talora anche mi trovo a soffrire quando alla presenza del santo e invisibile, del puro e dell'adorabile, si fanno discorsi non santi, non puri, non caritatevoli. La gente non può sapere, né io posso dire. Ma che urto ne provo e che vigilanza esercito per riparare con atti di amore, di fede, di speranza, di purezza, l'urto dato al mio Gesù con quei discorsi. Urto che deve essere ben forte se in me, povero verme, suscita già tanta pena solo perché il mio Gesù mi ha comunicato un briciolo del suo modo di sentire e pensare. Samane sento quella gioia attiva, che in me è sempre preludio della sua parola. Spiego come posso. Ho una gioia passiva quando, come ieri e l'altro ieri, io giubilo alla presenza, ma essa non mi chiama al servirla. Ho una gioia attiva quando quel che, indescrivibile che provo, mi dice, serva del tuo Gesù, egli ti chiama, servilo. Allora passo dalla serenità all'ilarità di spirito, dalla pace ad una leggerezza che mi solleva. Se potessi muovermi, io credo che andrei su e giù, in casa o meglio fuori di casa, per esuberanza di questa letizia e forza che penetra in me. Così come sono, non ho che lo sfogo del canto. Poi subentra quel dolce languore che mi muta volto, languore in cui mi liquefo in una dolcezza che non è di questa terra. E da esso passo al lavoro vero e proprio dello scrivere sotto dettatura o del descrivere ciò che mi si presenta. Se è scrivere sotto dettatura e se la dettatura si appoggia ad un punto della Bibbia, allora prima Gesù mi fa aprire al punto che vuole spiegare. Se invece è dettato senza speciali riferimenti, allora non mi fa prendere neppure in mano la Bibbia né altro libro sacro. Se è visione, essa si presenta, come ho detto, con una figura iniziale che generalmente è il punto culminante della visione e poi si svolge ordinata. Non appena si presenta, mi empie di gioia ancor più viva. Quando la visione ha uno svolgimento ordinato, comincio dal principio. Quando si presenta dal punto culminante, descrivo quel punto e poi, quando si mostra l'antecedente, scrivo quello e il seguito. Così fu per quella di Rabbi Gamaliele in agosto, credo nella prima decina del mese. Gesù mi ha detto di ripetere ancora una volta, per illuminare meglio chi è o chi vuole restare al buio sul mio caso. E ora mi dice di aprire la Bibbia. Allora oggi è un dettato. Copio il punto che mi segna, perché mi dice di farlo. Geremia, capitolo 42, versetti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se resterete tranquilli in questa terra, io vi rialzerò e non vi distruggerò. Vi pianterò e non vi sradicherò, perché sono già placato col male che vi ho fatto. Non abbiate paura del re di Babilonia, del quale tremate, perché con voi ci sono io a salvarvi e a liberarvi dalle sue mani. E vi tratterò con misericordia e avrò pietà di voi e vi farò abitare nella vostra terra. Ma se voi dite, non abiteremo questa terra, non daremo ascolto alla voce del Signore Dio nostro. Aggiungendo, niente affatto. Noi andremo nella terra d'Egitto, dove non vedremo più guerre, non sentiremo più il suono della tromba, non patiremo più la fame e vi staremo. Udite al riguardo la parola del Signore. Queste cose dice il Signore degli eserciti, il Dio d'Israele. Se vi ostinate a voler andare in Egitto e vi andate per abitarvi, la spada che paventate vi verrà a trovare in terra d'Egitto, e la fame per la quale state in pena vi starà addosso nell'Egitto ove morrete. Dice Gesù Pazienza e ubbidienza sono due grandi virtù. Pazienza porta seco pace. Pazienza porta seco amicizia con Dio, rispetto a Dio, carità verso i prossimi, salute spirituale e fisica, e benedizioni celesti. L'impaziente è inquieto. Nell'inquietudine non vi è Dio, il quale si fa sentire solo nella pace del cuore. Anche un cuore addolorato può essere in pace. La pace vi è quando vi è rassegnazione. Ma nel cuore, che si irrigidisce al volere eterno e all'urto delle cose comuni, vi è sempre sforzo, sofferenza, inquietudine. Valesse l'irrigidirsi e il puntarsi come muli restigli, a deviare a favore proprio le cose, anche le più umili cose. Ma no, figli. Quelle umane non si piegano. Vi piegano più duramente con rigore di leggi, o di superiori, se fate resistenza. Quelle soprannaturali è più facile si modifichino davanti ad un vostro filiale irremissivo piegarsi, che non davanti ad un protervo ribellarsi. L'impaziente diviene irrispettoso a Dio. Facile passare, per lui, a pensieri, atti e parole, che mai dovrebbero sorgere da un cuore di figlio e suddito, rispetto alla paternità e maestà di Dio. L'impaziente è superbo. Si crede più giusto di Dio e di chi lo dirige, e vuole fare da sé. L'impaziente trascende a sgarbi con il prossimo, facendo il prossimo responsabile del ritardo nell'avere ciò che vuole. L'impaziente lede la sua salute spirituale, offendendo la carità verso Dio e verso il prossimo, e lede la salute fisica, perché ogni rovello deprime l'organismo. L'impaziente chiude con la diga della sua ribelle impazienza i fiumi delle benedizioni celesti. Credete di non aver meritato di soffrire questo per cui soffrite? Sareste per caso mostri perfetti di superbia, tanto perfetti da autoproclamarvi, senza colpe da ispiare. Guardate indietro al vostro passato. Non dite, non ho ucciso, non ho rubato. Non sono queste sole le colpe che meritano pena. Ne ruba soltanto quello che si appiatta in un androne e poi assale il passante. Oh, si ruba in tanti modi. E si rubano tante cose che non sono soltanto denaro. Volete sapere qualche oggetto di furto oltre che monete, gioielli e beni? Onore, purezza, stima, salute, guadagno. E verso Dio, rispetto, culto verace, ubbidienza. Vedete? E ne ho detti solo alcuni. Ma quanti, quanti altri furti fa anche l'uomo apparentemente più onesto? Colui che porta uno a disperare non uccide forse anche se il disperato non si uccide? Sì. Uccide la parte più eletta. Lo spirito che disperato si stacca da Dio, matrice di ogni uomo destinato a nascere al cielo e che perciò muore. Colui che leva dal cuore d'uno che è suo prossimo la fede non commette furto? Sì. Eppure quanti, con opere e parole, non strappano ad un che credeva in giustizia la fede e vi seminano o l'incredulità ad ogni fede o una tossica pianta di idolatria. E colui che leva l'onore e la pace a una donna e nega paternità al bastardo per lui nato non ruba? Sì. Due furti fa. E dei più gravi e maledetti da me. E queste le cose più gravi. Ma poi... Ma poi... Oh, nessuno è senza colpe da espiare. Ebbene, se io mi sono placato col castigo che ho voluto darvi qui, sulla Terra, e che è castigo d'amore, perché non voglio punirvi là dove il castigo si misura a secoli o a eternità, mentre qui è sempre una briciola di tempo, mesi o anni che siano, perché volete subito riattivare il mio rigore, disubbidendo e mostrandomi cuore irato per l'impazienza? Fatevi amico Dio. E Dio sarà con voi contro i nemici che sono le cose della vita, le conseguenze della tragedia da voi provocata per colpevole leggerezza e lasciare libero Satana e i Satana minori di torturare l'umano genere. Ma se volete fare con l'antica superbia della razza umana ciò che più vi piace, sordi alle voci celesti che vogliono il vostro bene, se lo volete fare, sordi alle voci della carità e mostri da pensiero di egoismo che io abborro, ecco, io vi dico Fate, ma non eviterete ciò che a me rassegnati avreste evitato e allora inutile sarà chiamare il Dio. Gesù poi dice Per te, ma non per te sola. Ognuno si prenda la sua parte e se ne faccia medicina. Non dice altro ed io, per quel che mi compete, prendo la mia parte e riconosco che mi spetta. E per gli altri ho dolore, vero, sincero dolore. Non avrei voluto questo dettato in cui risento il maestro severo di or è un anno. Segue in data 12 ottobre il capitolo 48 dell'opera L'Evangelo. 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 L'Evangelo.